we la eccoci qua con il nostro bitcoin update allora c'è stato un attimino di tranquillità un secondo e quindi provo a fare il video allora ieri abbiamo detto che probabilmente rimanevamo in barra di congestione questi movimenti stupidi così nei fatti mi sa che no no adesso bisogna anche rivedere un attimo il perché stavo provando a capire in mezzo a questo casino come si può un attimino interpretare la situazione allora innanzitutto la barra di congestione comunque che si era ipotizzata comunque non era bearish cioè sarebbe stata anzi una roba positiva magari riposava un po di più e dopo spingeva ancora però tanto vuol spingere ancora quindi già ieri con questa spizzicata qua dei massimi sembrava che volesse prendere intraprendere una nuova strada rialzista ora ne ha data diciamo quasi la certezza perché vedete che si sta di nuovo riproponendo invece che trend anche abbastanza sotturato si sta di nuovo riproponendo il classico trend diciamo a curva logaritmica quindi probabilmente se adesso noi continuiamo qua inizieremo a spingere e forse finalmente vedremo i 100k e lì bisognerà poi porsi qualche domanda di sicuro cercavo di capire un attimo qui un po di sta situazione più che altro per capire un attimo le tempistiche perché allora chi è spot o chi ha insomma delle posizioni long in generale non è che deve guardare dire oddio andiamo in barra di congestione vengo tutto anzi cioè la barra di congestione comunque voleva dire solo stare fermi cioè non è che voleva dire vengo tutto è solo per fare ad esempio il nostro trade speculativo per avere dei punti di riferimento perché senza punti di riferimento anche come cioè quando è che più o meno potremo arrivare punto di domanda è un po' un casino allora io notavo qua che effettivamente questo settimanale inverso era troppo lungo troppo probabilmente noi qui abbiamo chiuso il nostro settimanale inverso quando ha fatto il mezzo settimanale indice cioè sto cercando di dare dei punti di riferimento eh perché comunque cosa cambia qua tanto siamo andati sullo stesso capite già per avere dei punti di riferimento quindi dal mio punto di vista cos'è che può essere successo perché questo ha fatto una marea di casino che sostanzialmente qui effettivamente è partito il settimanale però dovevamo subito ancora chiudere i conti con questo settimanale inverso che in effetti qui ha praticamente fatto il suo mezzo e quindi qui abbiamo fatto un po' un casino della madonna con una sorta di lingua di baire che neanche si capisce perché praticamente io sposterei qui anche se non è il top il settimanale la partenza del settimanale inverso perché qui vedete c'è un mammo macello senza precedenti poi qui praticamente ci si ferma cerca di capirsi anche qui c'è un trend rialzista che poi viene subito violato e via e quindi cosa succede che questa è una sorta di piccolissima lingua di baire insomma una sorta di casino per riallinearsi con casini precedenti mettiamolo lì quindi qui non si capiva un cazzo infatti ho detto poche parole si capiva un cazzo in questa zona qua perché c'era un po' e questo settimanale inverso doveva finire però doveva chiudere settimanale insomma il classico macello che poi come dico se come quando c'era la barra di congestione a livello più ampio no che dicevo si qui ci sono dei minimi qui ci sono dei minimi allora uno dice parto da qua parto da qua parto qua tutti i minimi però poi in realtà vedete tutto un macello in un time frame più ampio e poi a certo punto arriva il punto di riferimento dove partono le onde rialziste e tutto il resto che c'era prima è buonanotte mettiamola così ecco da questo punto qui farei uno stesso ragionamento per capire che cosa ci possiamo aspettare e intanto si va su diretti così invece di far pausa che vedo che siamo pronti di già vabbè tanto io ho un primo target a 64, 9, 75 classico e poi il resto è moon allora quindi io qui anche qui farei taglierei con l'accetta il casino praticamente vedete com'è non si può fare il punto e il minimo e poi bisogna fare cioè bisogna cercare di essere un attimino più razionali qui c'è tutta questa confusione dovuta a chiusura ok del settimanale che era ora però poi sembra che parte subito bomba perché in realtà qui c'è tutto questo settimanale inverso che deve chiudere ancora quindi ti fa strutture di bottom di top ancora da qui forse si riallinea tutta la situazione in cui chiude il settimanale inverso con il suo ritracciamento vedete qui parte giriamo il grafico e si capisce l'inverso da qui praticamente parte con questa inutilità perché da qui c'era lo scorso qui siamo super fanta mega bullish fa un minimo di niente però a parte perché questi sono i tempi e anche i movimenti guardate i giorni 10 giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ce l'ho mai li ho contati i movimenti ci sono il tempo c'è non si può arrivare fin qua quindi da qui vabbè sull'inverso parte poi qui io avevo messo qui il top del settimanale inverso ma in realtà questo punto se qua parte è troppo corto quindi deve fare ancora un altro movimento e quindi fa tutta una struttura diciamo di bottom circa che poi potrebbe anche essersi allungata fino a qua però qui c'è un bel piccolo trend che ti fa capire che c'è un minimo di trend rialzista vedete che dura per un po' poi si vincola al ribasso cerca di tenerlo e poi finalmente molla quindi io direi che da questo punto qua è come se ci fosse una sorta di lingua di buyer chiamiamola però in realtà è solo l'inverso che tenta di finire il suo compito qui c'era l'indice quindi anche qui il settimanale parte che fa un casino e fa la sua eccola qua la lingua di buyer che si può dire lingua di buyer vedete quindi qui parte un settimanale allora come fa a partire un settimanale che è bullish ti fa un giornaleo rialzista e poi ti fa una flag non ha senso quindi da qui si resetta un po' tutto da questo punto qua si resetta tutto tutto questo questa situazione qua si può mandare a fanculo praticamente direttamente se c'è la fanculo non capisco un cazzo vai a fartelo mettere da qui si inizia a ragionare si inizia a ragionare in cui vedete adesso con segno di poi che abbiamo visto questa cosa qua finalmente che è carina abbiamo un giornaliero secondo giornaliero quindi due onde e adesso stiamo adaccendo la terza perché sta andando su quindi tre onde rialziste reset e adesso inizierei a pensare da questo punto qua che cosa ci si può aspettare semplicemente questo confusione no è così che poi alla fine ci sono le situazioni di diciamo di lingua di buyer eccetera è che c'è un po' di confusione fra la lotta fra l'inverso e l'indice alla fine si trova una quadra e poi parte qualcosa potrebbe anche partire l'opposto poi parte qualcosa quando parte qualcosa di chiaro allora da lì si iniziano a fare tutti i nostri ragionamenti più semplici qui guardate che cazzo era si capiva un cazzo ovviamente no perché comunque anche qui io metto da qui l'accetta però si potrebbe anche partire direttamente da qui è che alla fine vedete qui come se si chiudesse un trend qui cerca di fare qualcosa di diverso io metto da qui però insomma per avere un punto di riferimento e da qui vedete che parte qualcosa di un trend no da quando parte il trend io inizio a fare i miei ragionamenti sostanzialmente perché qui poi quando parte il trend anche se settimanale magari doveva partire da qui vedete poi fa un settimanale che non ha senso fa casino e poi alla fine si allinea e va capite il senso logico della cosa che questa è confusione confusione fra lotta fra venditori e compratori poi si trova la quadra e si va e da qui in poi si capisce ecco quindi quello che è successo prima qui si può anche tra virgolette archiviare anche perché sostanzialmente il top del settimanale inverso è qua vicino il settimanale inverso noi ce ne frega relativamente perché vedete facciamo sempre top quello che ci interessa di più è capire quando magari andremo a fare dei ritracciamenti un po' più importanti su chiusure settimanali eccetera per avere dei punti di riferimento anche sui giornalieri finalmente qui che non si capiva un cazzo abbiamo un bellissimo punto di riferimento bellissimo con il trade fatto come ho scritto anche su telegram trade da proprio textbook puro delle mie strategie da abc classico cioè qui si chiude un giornaliero inverso qual'era il top di questo giornaliero inverso questo questo non lo so qualcosa qua si chiude è un punto di riferimento finalmente qui era questo qual'era il bottom questo questo cioè se partiamo qui questo probabilmente è il bot infatti qui c'è tanto casino poi inizia qualcosa di diverso si chiude il giornaliero vedete anche qui abbiamo un bel punto dei punti di riferimento invece che confusione epocale no si chiude basta fine e da qui si può iniziare a fare il trade quello là appunto da mio textbook vedete rottura di un tre ore metti sotto magari ti metti qua sotto c'è rottura finalmente il livello c'è un punto di riferimento perfetto senza laterali rialzisti e follia diciamo così e da delle parti un trend ben delineato facilissimo da tradare finalmente e così adesso abbiamo non più barra però dovremmo andare ormai abbiamo fatto già un tentativo di attacco è tornato indietro poteva ancora rimanere in barra però vedete qui adesso è partita una linea di tendenza che tra l'altro guardarla tenta di fare il classico cos'è trend a banana come si può chiamare al logaritmico uuu ma così quindi adesso potrebbe partire il logaritmico diciamo fino a il 100k ormai ormai 100k sono adesso vediamo nel contingente qui quanto tempo abbiamo qui abbiamo probabilmente chiuso qua il mezzo giornaliero inverso vedete fa un minimo di tracciamento quasi nulla sta in riposo sotto il top e poi rompe il rialzo adesso probabilmente anche qui come giornaliero indice siamo vedete fa fatica siamo verso il mezzo giornaliero però come dico sempre se il mezzo giornaliero rimaneva sotto allora era un casino e c'era il rischio di far così se il mezzo rompe già rialzo probabilmente rimanga su e quindi comunque vabbè qui o fa ancora già su e poi chiude oppure facciamo insomma non dovrebbe succedere niente che sia adesso che sia fra tre ore che sia fra sei si va anche perché comunque se prendiamo il giornaliero inverso si vincola rialzo quindi noi dovremmo essere in salita mettiamo un giorno giusto per avere il punto di riferimento fino a da queste parti qua noi dovremmo salire e poi si vedrà ovviamente però in teoria adesso siamo tutti in trenzo di rialzista di nuovo non è più barra dovremmo essere in salita fino a qua più o meno mettiamo un azzurrino è fino una bomba più o meno dovremmo salire ancora tutto qua adesso vediamo ovviamente quindi se così fosse qua si resetta la barra di già praticamente quindi la barra di congestione diciamo da qui poi in realtà però vabbè per avere un punto di riferimento in cui parte un trend 1-2 però in teoria è anche da qui si può resetare tutto perché qui fa il tentativo qua è l'ultimo punto in cui sta dentro la barra e poi va fuori dalla barra e ciao barra di congestione salutata e ci rivediamo a mai più ecco e poi adesso dovrebbe andare vediamo adesso dovrebbe andare e adesso dovrebbe andare anche forte perché ora a questo punto non c'è più indecisione dove può spingere dove spingere e basta ecco questa è la possibile view che abbiamo poi se uno non se ne sbatte i coglioni della ciclica per avere la ciclica mi serve a me per avere dei punti di riferimento tutto qua dei punti di riferimento senza punti di riferimento vai un po' navighi un po' a vista mettiamola così che per ora si è fatto così comunque si navigava a vista cioè tanto comunque ricordatevi senza cicliche o non cicliche o pin pull la e il trend è rialzista fino a prova contraria cioè qui c'è una sorta di trend comunque anche questa barra poi fin qui era una barra vedete perché qui c'era stato un minimo anche di triangolazione qui potevamo comunque rimanere in barra non è detto che rompevamo qui ormai abbiamo rotto a rialzo questa triangolazione quindi secondo me ormai è rottura guardate anche su un time frame di 4 ore qui potevi ancora avere dei dubbi infatti siamo stati rigettati ma adesso questa candela qua parla da sola parla da sola quindi non dovremmo essere senza stare lì a fare cicliche e non cicliche quindi anche questa situazione qui va vista perché se io faccio colaccetta e taglio da qui questo è il prossimo settimanale e anche in questa situazione qui che sia un mezzo settimana un mezzo trimestrale non è neanche detto ancora non è detto cioè anche qui si navigherà a vista con i settimanali perché anche qui i punti di riferimento che abbiamo precedenti sono sono poco poco chiari nel senso che ci sono troppi triple minimi eccetera quindi qui io navigherei a vista finché si vedono settimanali razzisti long e basta si naviga a vista ma in mari inesplorati in blu sky break out quindi non è un gran problema finché sale sale finché ci sono settimanali razzisti si va su quando inizierai esserci un giorno all'ero ribassista inizierai a accorti dei problemi guardi di tipo vai su vai su vai su vai su c'è un giorno all'ero ribassista mi pongo un problema no dai forse sono mezzo settimanale va su va su va su ah un giorno all'ero ribassista mi pongo un problema effettivamente potrebbe essere un settimanale che va a chiudere un altro giorno all'ero ribassista non ha rotto ancora niente mi pongo un problema ancora no si riparte mi pongo un problema ancora no tutto così a vista senza grandi ponti di riferimento più macro chiamiamolo così perché perché non ci sono è difficile ecco difficile perché su trimestrali sappiamo già che qui è tutto bullish però per dire un settimanale un trimestrale inverso avevo già detto poteva essere questo no questo qui ad esempio poteva essere un trimestrale inverso che qui fa il suo e va però non è certo neanche questo vi dico perché anche questo sembrerebbe un trimestrale inverso e fa una mega lingua di buyer e va quindi non c'è certezza in questo anche se fosse questo anche vedete se fosse questo siamo arrivati però stiamo andando ancora su quindi non è questo di sicuro qui mancherebbe poco ma sugli inversi poi come anche dico nel mio corso di ciclica no finché il trend è così tu i top te ne freie relativamente meglio se guardi i bottom perché i bottom a un certo punto ti fa lo sciacquone allora c'è un punto di riferimento i top invece è questo il turno inverso è questo o è questo cioè le volte sono tutti confusionari non si capiscono perché tanto va sempre su e quindi quello che da guardare è i minimi quindi qui ad esempio si come ho detto ci si può dare un'occhiata all'inversi per capire un attimo come si è messi infatti qui il problema che vi ho detto è dovuto secondo me all'inverso tutto questo casino perché come ho detto qui alla fine aveva fatto lo stimolo inverso qui era troppo corto quindi è andato un po' avanti no vedete qui ha fatto probabilmente lo stimolo all'inverso qui era troppo corto era un mezzo e quindi è andato avanti anche magari fino a qui vedete che c'è l'ultimo punto è andato avanti fino a qui rimanendo in top però è solo per darci un punto di riferimento oppure addirittura è andato avanti fin qui però insomma c'è qualcosa che era in effetti da chiudere e poi da ripartire ecco io direi questo o questo o questo perché da qui parte un trend ribassista io quindi me lo sono posizionato qua per logicità puntiamola così per logica base però chi se ne frega cioè tanto si va su capite non è quello il punto quello che ci interessa di più è quando c'è un minimo e poi si riparte quando c'è un minimo poi si riparte e soprattutto quando finirà il trend quando c'è un minimo che farà un po' più paura tipo qui c'è tutta questa trend qua sali sali inizia un minimo che fa paura e invece di ripartire inizia anche a perderlo di nuovo e allora lì ti fai ti pili paura e allora lì potrai capire qualcosa ma fin tanto che trend è così e fai anche dei minimi però tanto arrivano su boh vai su e basta chi se ne frega finché va va finché la barca va lasciala andare ecco mettiamola così e che comunque qui che anche se dicevo ieri magari si rimane in barra di congestione cioè nei fatti uno che ha investito a Lealcoin a Bitcoin che cosa faceva qua semplicemente magari non faceva niente ma di certo non vendeva stava dentro aspettava aspettava che la barra di congestione si rompesse che alla fine prematuramente l'ha fatto rispetto a quello che dicevo io cioè rispetto all'analisi di ieri to l'ha fatto però ha rotto la barra di congestione incrementi vai long fai non avresti comunque dovuto fare niente finché non c'è un segnale ribassista non fai niente questa è la sostanza ecco dai qui si 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 vola vediamo siamo vicini al prossimo primo target tutti gli altri i miei target erano sul double top e quindi adesso il mio prossimo target un allerto prima è il classicissimo 64975 e insomma 65 si si 65 ma ormai sono rimasto indietro di mesi io 95 94 non è stato 75 95 poi 95 è il primo numero tondo perché vedete qua c'è il 93 94 che è il secondo il 95 è il primo numero tondo che dopo quello c'è spazio di moon perché si allontana veramente tanto da questa attrazione perché poi queste queste barre questi punti di riferimento qui anche questa super mega barra comunque tendono a essere attrattive finché ci sei vicino sono come una calamita no perché qui ci sono tutti i volumi se non ti allontani dalla calamita diciamo così in termini non so me la sto inventando adesso sta 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 metafora chiamiamola così cioè finché sei qui vicino vedete finché sei qui vicino la calamita continua a portarti vicino finché rimani in queste parti tutta la liquidità i volumi quindi c'è la tendenza ad appiccicarsi a tornare sempre quando sei nelle vicinanze quello che succede invece è che quando invece ti allontani allora è come fa proprio repulsione come due poli che si respingono quando si allontana e invece si attraggono quando sei ancora vicino mi sto inventando io adesso però è per farvi capire il senso quindi sinché sei vicino il rischio di ritornarci dentro i range di congestione perché lì sono annidati un sacco di volumi è sempre alto sempre alto invece quando inizierei anche qui in più piccolo vedete è sempre alto voglio andare ma non riesco voglio andare ma non riesco e continuo a appiccicarmi a sta cazzo di calamita che mi attrae nei volumi nella price action qui cerco di allontanarmi ma devo farlo allora quando mi allontano invece c'è addirittura l'effetto contrario proprio repulsione capite e invece quando sei lì vicino di nuovo dentro che palle no è così che funziona e poi quando in futuro magari ci sarà poi quelle situazioni in cui magari fai grandi ritracciamenti poi più ti avvicini alla calamita più verrai attratto da quel punto là però più ti allontani più non la vedrai neanche più non ci sarà più l'effetto non so gravitazionale cazzo ne so dai sono inventato sta roba al volo così ogni tanto mi invento ste puttanate però cioè è per far capire no ok dai io credo che ci siamo qua va controllato se finalmente andiamo a fare almeno sti 65 64 9 65 qui ci stiamo un po' impallando onestamente probabilmente vedete stiamo andando cioè stiamo un po' fermi anche qua ancora qua perché ormai anche siamo anche in tempistiche siamo anche in tempistiche di mezzo giornaliero quindi magari stiamo ancora un po' così e poi facciamo l'ultimo sprint però vabbè è roba di poco parlo di cicli 3 da 3 ore se rimaniamo comunque qua sopra non c'è problema rimaniamo fino a se rimaniamo qua sopra non c'è problema se perdiamo questo allora iniziamo a fasciarsi da testa e dire oh oh cazzo cosa sto cedendo qui il problema mi sa che il nasdaq o gli indici che stanno facendo un po' di capricci forse si un po' di capricci eh capricci capricci degli indici e allora stiamo facendo un po' fatica che tra l'altro stiamo facendo un po' fatica stiamo sempre su però giornaliero gli ora liero del nasdaq quindi comunque non importa dovrebbe ripartire da un momento all'altro quindi fa un po' di casino facciamo un po' di casino e questo secondo me da un momento all'altro parte anche perché oggi ricordo che ci sono gli earning di nvidia e come sempre è stato ormai negli ultimi anni e mezzo cos'è e sono sempre stati uno spartiacque finale indipendentemente da come andavano poi earning di nvidia abbiamo tolto anche quest'ultimo sassolino della scarpa andiamo su che ci siamo rotti il cazzo più o meno tanto anche nvidia e guardate anche lei è praticamente ha fatto una roba simile a bitcoin diciamo un po' più un po' più un po' più corta però vedete come è stata fatta in una barra che ormai anche lei ha rotto ma non sta andando in accelerazione è probabile che con gli earning vada in accelerazione e anche noi andiamo in accelerazione ecco adesso uno vuole comprarci nvidia però io non io non sto facendo quasi niente nazionale perché se c'è bitcoin che mi va su così perché devo mettere soldi da altre parti no quelli che ti dicono eh ma devi diversificare diversifico se ha senso no eh c'ho bitcoin e devo diversificare in qualcosa che mi performa meno domanda perché no non c'è un perché tanto poi alla fine le diversificazioni valgono quello che valgono perché quelli che dicono diversifico il portafoglio perché magari non sono al grafico tutti i giorni perché poi nei fatti se c'è il periodo che il gold ti performa di più compra il gold se c'è il periodo che bitcoin ti performa di più compra bitcoin se c'è il periodo che nasa ti performa di più compra il nasa se c'è il periodo che tutto crolla crollano tutte vendi tutto non è che poi alla fine il nasdaq ti va to the moon bitcoin crolla e bitcoin crolla il nasdaq ti va to the moon al di là delle robe di breve ovvio sto parlando di macro trend non è mai così non è mai così se deve scendere tutto scende tutto scende anche il gold crollo covid il gold fa meno 30 anche il gold perché comunque chi deve magari coprire i buchi chi deve fare gli assicuratori finali vanno comunque a vendere anche gli asset come l'oro e quindi crolla tutto lo stesso quindi diversificare ha senso anche no non ha senso ecco ciao